vi ho detto in un altro video che il superbonus non termina con il 31 dicembre 2023 quello che termina il 2023 è il beneficio del superbonus al 110 per cento ma poi passa al 70 dal primo gennaio per cui sarà possibile usufruire del 70 per cento per cui se io ho iniziato le opere prima del 25 novembre quindi con il deposito della cilas almeno il 25 novembre 2022 avrò la possibilità comunque di poter utilizzare il superbonus al 70 per cento che io abbia iniziato le opere al 110 poi le completo al 70 non c'è nessun problema tante volte si è sentito dire che le opere devono essere terminate entro il 31 dicembre altrimenti si perdeva il bonus ma non è vero non perdi il bonus perché la norma è molto chiara parla delle spese sostenute dal dal cos'era dall'inizio della legge cos'era maggio del 2020 altri oggi al 31 dicembre 2023 a beneficio del 110 per cento non c'è scritto da nessuna parte che le opere devono essere completate entro quella data e questo deve essere deve essere molto chiaro c'è un po un problema con lo sconto in fattura però negli altri casi assolutamente no io posso benissimo iniziare le opere adesso e terminarle entro la fine dell'anno prossimo per esempio l'importante che io le concluda quindi se il vostro general contractor vi dice guarda non riesco fino per il 31 dicembre ma le finirò tranquillo marzo aprile giugno non vi dovete più di tanto preoccupare quello che io comunque vi suggerisco per evitare di dover un domani andare a discutere è comunque di fare due righe ovviamente ci voglia l'avvocato che ne capisco di super bonus perché stiamo parlando di benefici fiscali nelle quali viene indicato che nulla dovrete dare a compensazione di quel 40 per cento che viene a mancare io in un altro video ho già detto che non c'è problema che si passa in automatico che bisogna star lì a verificare che cosa è scritto nel contratto e qual è la condotta della dell'impresa per vedere se può venire a chiedere qualcosa e me lo confermo ma se scrivete due righe anche se non serve anche perché molti avvocati dicono non occorre fare nessuna riga perché il general contractor ha sottoscritto un contratto doveva terminarlo entro il 31 dicembre se poi sfora è un suo rischio di impresa e non è sbagliata come tesi anche se il general contractor può sempre dirvi certo ma io ho stipulato il contratto con queste diciamo con questi presupposti normativi quando l'ho firmato e quindi potrebbe dirvi no mi devi dare la differenza perché c'è scritto 110 non c'è scritto 70 sì tutto giusto ma vedi che stiamo discutendo e stiamo dicendo io sto dicendo tutto vero il contratto il contrario dell'altro per cui si tratta di andare a discutere poi trovare un accordo io farei un ragionamento di prevenzione andare dal general contractor e dire è vero che non mi hai finito i lavori allora qui per forza di cosa il 31 dicembre si finisce il contratto tu penso che non abbia voglia di fare una causa come non ce la voglia io ma io voglio che vengano finiti i lavori andate a parlarci con calma e serenità ma andate a parlarci e se vi mettete d'accordo dicendo che se sfori le tempistiche quella diciamo quella differenza tra il 110 e il 70 se la paga lui sostanzialmente è una rinuncia al guadagno che fa lui avete prima preventivamente evitato di di andare a litigare dopo normalmente io vengo contattato perché appunto c'è questa grave paura di non terminare i lavori entro la fine dell'anno ed è una paura assolutamente sensata sotto un certo profilo però quello che io cerco di tutelare in quel momento soprattutto se sono già stati fatte delle cessioni del credito cioè applicato già lo sconto in fattura magari in un sal in due sal è appunto quella di andare a tutelare il meccanismo con l'agenzia delle entrate perché in quel momento io trovo in quella pratica vari tipi di problemi quello che riguarda l'agenzia delle entrate è quello che le opere non sono terminate ma quello che a me fa più paura è quello con l'agenzia delle entrate perché perché se tu hai fatto mezzo condominio ne manca mezzo ne manca un terzo di lavori e sono già stati ceduti due sal quindi sono stati già fatti due fatture di con sconto in fattura ti manca un terzo e però tu in realtà in quel momento non hai speso niente mi spiego cioè tu non hai tirato fuori soldi se non qualcosina magari per i tecnici per lo studio di fattibilità per la sanatoria delle parti comuni ma in realtà non hai avuto grandi esborsi tu adesso hai due possibilità quella di terminare i lavori da solo oppure metterti d'accordo con l'impresa che te li completi lei ovviamente questa opzione è la migliore e se riesci a metterti d'accordo ed è dove punto io che i lavori vengano terminati apro parentesi per il problema dell'agenzia delle entrate apro nuova parentesi così tu hai il condominio completato mi cerco di mettere d'accordo con il general contractor di dargli io la proroga dicendogli sì però quel 30% te li paghi tu e se il general contractor qualcosina vuole ne parliamo con te condominio e vediamo di trovare una via di mezzo perché comunque vanno completati e tu hai ti ripeto di nuovo due opzioni pagarti tutto o trovare un accordo con il general contractor magari dandogli qualcosa che può capitare può talvolta essere necessario allora non pensare mai che l'avvocato sia Dio perché nessun avvocato è Dio nessun avvocato ha la possibilità di diciamo portarti il risultato che tu speri o che tu ritieni giusto incondizionatamente non è così però tu tante volte ti trovi di fronte ad una problematica che ti sembra una semplice ingiustizia e invece stai rischiando di rimetterci la casa e il tuo patrimonio perché se i lavori non vengono terminati e quindi ti ripeto non necessariamente entro il 31-12 l'agenzia delle entrate viene a chiederti tutti i soldi che ci sono che sono stati presi dal tuo cassetto fiscale per lo sconto in fattura o per l'accessione del credito se l'hai fatta e ti chiede il doppio più gli interessi per cui quando ti trovi in una situazione di questo genere che sei che tu sia a novembre e stai vedendo questo libro questo libro, questo video o che tu sia a marzo dell'anno prossimo ma il cantiere è bloccato perché quello poi dopo il 31 dicembre si è volatilizzato l'avvocato in quel momento ci vuole deve capire di appalti, deve capire di imprese, di edilizia deve capire di super bonus ma deve avere esperienza perché c'è tutta la parte fiscale che se l'avvocato non è assolutamente dentro il meccanismo di questa fiscalità gli scappano tante cose non perché non sia preparato ma perché si occupa di altro ed è normale che sia così se tu vieni da me e mi passi una pratica di marchi e brevetti io ti posso seguire io me la cavo abbastanza ma di certo non sono preparato come un avvocato che fa solo marchi e brevetti lui vede 500 cose più di me è normale questa roba qua quindi che tu stia vedendo questo video nel 2024 che tu lo stia vedendo adesso alla fine del 2023 se sei in questa problematica non dire oggi piove ma devi dire mi cerco un avvocato specializzato che conosca bene anche il 110 e fatti seguire la soluzione te la trova per cercare di farti completare il cantiere ma soprattutto per salvarti dell'agenzia delle entrate che anche lei sta facendo il suo mestiere seguimi sui miei canali sui social sul sito internet e ci vediamo al prossimo video ciao